La riapertura completa al traffico del viadotto del Puleto sulla E45 risolve una grave criticità che ha provocato danni ad imprese e lavoratori per molti mesi. Lo afferma Vincenzo Ceccarelli, assessore regionale alle infrastrutture e trasporti, secondo il quale bisogna però ora puntare sulla prevenzione e sulla riapertura della Tiberina Trebis. Occorre un grande impegno da parte di ANAS, sottolinea Ceccarelli, affinché siano garantiti tutti gli interventi necessari per prevenire il ripetersi di fatti di questa gravità, ma occorre anche che sia riaperta al più presto la Tiberina Trebis, che rappresenta l'unica alternativa in caso di chiusura, anche per fatti meno gravi della chiusura della E45. In questo senso, conclude Ceccarelli, sarà nostra cura mettere la questione tra i punti all'ordine del giorno dell'incontro che avremo il prossimo 11 ottobre con il ministro Paola De Micheli, alla quale chiederemo di sollecitare la riapertura della Tiberina Trebis, un impegno che aveva sottolineato anche il sindaco di Sansepolcro Mauro Cornioli proprio nel giorno della riapertura della E45. In settimana incontriremo i nuovi vertici dell'ANAS Toscana, l'ingegnere del Monaco, nuovo responsabile compartimentale, e approfondiremo tutta la situazione della ex Trebis, che continueremo a monitorare con la stessa intensità con la quale abbiamo fatto per il viadotto Puleto. 27 chilometri di cratto toscano, sappiamo che sono i più bisognosi di cure, perché sia in Emilia Romagna che in Umbria ci sono stati importanti lavori. L'ingegnere del Monaco viene dall'Umbria, dunque conosce molto bene l'AE45, e ci auguriamo che ci sia un percorso veloce anche per la sistemazione del fondo stradale e degli altri viadotti. Grazie. 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 Grazie.